Buongiorno a tutti, bentrovati! Oggi giornata molto importante, si torna in campo, si torna in campionato, tanto turnover, poi parliamo della formazione perché ci sono cose anche abbastanza clamorose in arrivo da cercare anche di decifrare, di capire, forse non tutto il male viene per nuocere, ma di Cialtroni, Farlocchi, Farlocolms, Maghi dei biscotti, vi abbiamo detto che non si parla più per rispetto anche degli amici di Panorama e del Panoramagate, di Farlocchi, abbiamo già detto fin troppo, un sacco di notizie di cui dobbiamo parlare, ma chiaramente oggi è il giorno, ricordatelo un po' anche a chi fa finta di essere interista, che oggi si gioca tantissimo, ormai la Lazio è imprendibile, ha vinto anche ieri sera passeggiando a solo il campionato e quindi la rincorsa a secondo posto, e c'è questa, questa solita onda di alti e bassi, coppa da campioni, campionato, puntini, puntini, che bisogna raddrizzare, che è un verbo che va abbastanza di moda ultimamente, accostato alle cose di casa nera azzurra, senza dimenticare, ritorno col Benfica del nostro idolo, idolo Joao Mario, che abbiamo riesumato e ritrovato una delle poche possibili, possibili, però oggi non si può sbagliare, col Monza è iniziata, diciamo, la demotivazione e la discesa da quel fischio di sacchi, che rimane così, sulla squalifica tolta la curva della Juve, ne abbiamo già parlato in live, l'Italia ha perso un grandissimo assist per dare un messaggio forte contro il razzismo, e questa è la cosa che ci dispiace molto e poi fa ridere che Lukaku sia l'unica vittima di questa situazione qua, che rimane lui squalificato e alla curva della Juve sono state tolte. E' stato tolto la punizione, anche se c'è ancora un ricorso che ci potrebbe essere, però chiaramente bisognava fare qualcosa di diverso, l'abbiamo detto più volte, ma anche solo togliere la squalifica a Lukaku, ma non per la partita di ritorno, chi se ne frega, ma perché è stato un errore clamoroso non aver sentito quei boo da parte dell'arbitro, non averlo comunicato da parte di chi li ha sentiti e li ha anche messi sul referto arbitrale, non aver fatto il solito annuncio di sospensione della partita se fossero continuati, insomma, una serie di errori che bisognava sanare con un messaggio forte contro il razzismo, invece si va in un'altra direzione, come sottolinea il teccaldo più famoso di YouTube in arrivo. Dicevamo, adesso un grande mega scoop che sta per arrivare, di cui avete già intuito dal titolo, oltre a news sul fronte proprietario, non di cialtroni e cialtronate, ma di dei biscotti, riabilitati, nonostante il panorama gate che fa ridere, anzi fa piangere. Andiamo a parlare della formazione perché ci sono novità importanti, potrebbe giocare anche Andanovic, l'avevamo già detto, D'Ambrosio devrà i bastoni, quindi, e sono già tre cambi rispetto alla Champions, Dunfries e Gosens sugli esterni, e siamo a quattro, Gagliardini a far riposare Mkhitaryan con Barella e Brozovic, siamo a cinque, Lukaku Correa e siamo a sette, sette cambi rispetto alla partita di martedì, in più, sempre fuori, quelli che invece noi vorremmo vedere in campo un po' più spesso, Aslani soprattutto, e Bellanova, però non arriva al momento, non arriva mai, cioè arrivato parzialmente con la Salernitana, in cui Aslani l'ha fatto bene, però, non dovrebbe giocare stasera a meno di sorprese, vediamo che cosa possa succedere, ci sono un sacco di cambi, ma forse mancano quelli che darebbero un po' più di sprint, a una squadra stanca, a una squadra demotivata, a diversi giocatori in scadenza, si insiste ancora con Gagliardini, che con tutto il rispetto, il bene, l'affetto che si può volere, però magari, giocando con probabilmente contro la sua, quella che può essere la sua nuova squadra, il Monza, magari farà una gran partita, ci speriamo in quello. Un'altra cosa che voglio sottolineare è che, comunque, questo dimostra però una cosa fondamentale, questo turnover massiccio, per me è importante, perché significa che non si sta sottovalutando in nessun modo la partita di ritorno, che è fondamentale, che darebbe un traguardo più che storico, rientrare nelle migliori quattro d'Europa, con la possibilità di andare fino a Istanbul, puntini puntini, ma prima, attenzione a João Mario, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, quindi non si sottovaluta il ritorno col Benfica di mercoledì prossimo, si fa un turnover marcato, si fa riposare Geko e Lautaro, si fa riposare Onana, si fa riposare Acerbi e Darmian, si fa riposare Mkhitaryan, Di Marco, per averli al meglio, al top, mercoledì prossimo, per non fallire, per non sbagliare, per non sottovalutare la sfida col Benfica, arrivare lì col fiatone senza energie. Però, dall'altro lato, è anche forse un po' troppo, visto che bisogna raddrizzare la rotta in campionato, bisogna dare dei segnali forti, come è stato detto alla fine della partita col Benfica, tutti concentratissimi sul Monza, sul campionato, sulla rincorsa al quarto posto, che l'abbiamo detto, è fondamentale per il club e la sua sostenibilità a 70 milioni, che se non dovessero arrivare, ne abbiamo parlato nella live di ieri con Emanuele, andate a rivederla, perché è un approfondimento indispensabile sui conti dell'Inter, e vi fa capire anche come vi prendano in giro da tante altre parti, perché il fair play finanziario non ti consente di spendere di più dei ricavi, anzi, anche meno, e vi fa capire anche perché spesso, cioè praticamente in quasi tutte le situazioni, si sta cercando di rinnovare praticamente a chiunque, tranne Gagliardini, Skriniar e Andanovic, credo, perché ti consente di spendere meno possibile, perché anche i giocatori di scadenza che puoi arrivare di un certo livello ti chiedono commissioni pesanti e ingaggi di un certo livello, quindi ti conviene rinnovare a tutti, per cui si spiega rinnovo di Darmihan già fatto, quelli già impostati di Dzeko e De Vrij, quelli in arrivo di Ciannoglio e Bastoni che comunque non sono in scadenza, chiaramente vincolati all'ingresso in Champions, perché adesso è stato per un attimo stoppato tutto. Quindi mi stavo quasi per dimenticare, vista l'importanza della partita di questa sera, Barella ritorna dopo la missione portoghese, l'occhiale scaramantico, le figurine del nipotino, e qui c'è anche Samir, Barella, Barella protagonista, la nuova figurina di Bastoni direi che è servita, e poi manca quella del Luca Cone che deve trasformarsi adesso nel leader totale per trascinare l'Inter in questo finale di campionato in cui ci si gioca tutto, senza dimenticare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, anche quella in arrivo a fine mese. Allora, Megascoop confermato! Quando ve l'avevamo detto? Mesi, mesi fa. L'abbiamo riscritto su Barza.com, ve l'abbiamo anche ripetuto in live più volte. Ve l'avevamo detto. Attenzione, che non c'è solo Akimi, che vorrebbe tornare, ma che è molto complicato, c'è anche un certo Ivan Perisic, che anche lui chiama i compagni, che anche lui, lo vedete sui social, è rimasto grande interista, e vorrebbe, soprattutto adesso che Conte se n'è andato, tornare in nero-azzurro. Guarda un po', oggi Corriere dello Sport e Tutto Sport riprendono e riportano la notizia. Dopo mesi, dopo, da quando ne abbiamo parlato noi, due cose. Intanto, l'amore per l'Inter di Perisic, a parte, vabbè, come se n'è andato, e le dichiarazioni post finale di Coppa Italia, va bene. Problema ingaggio, sei milioni netti, non c'è decreto crescita, perché ha fatto solo un anno all'estero, non ci sarebbe, usiamo il condizionale, però si può spalmare ancora un anno di contratto e si può spalmare il tutto su due o tre anni e consentire di ritornare. Quindi questo non sarebbe un problema, così come non credo che per un giocatore di 35 anni il Tottenham possa chiedere, arrivato gratis, possa chiedere qualcosa per il suo cartellino, soprattutto adesso che non c'è più neanche Conte e il giocatore non ha più nessuna intenzione di continuare, soprattutto se poi, come sembra, il Tottenham, anche se ancora apertissima la Corsa Champions, non dovesse centrare neanche quel traguardo lì. Di qui le telefonate, i rapporti sempre strettissimi con gli ex compagni di squadra e la possibilità di riprendersi il suo posto magari al posto di un Gosens che ha comunque mercato, che adesso si è ritrovato e potrebbe essere un bel ritorno anche quello, sperando che sia più diciamo fortunato di quello di Lukaku, su cui però dopo il gol al Porto da 20 milioni, il gol in semifinale alla Juve importantissimo che ha raddrizzato la semifinale di Coppa Italia, il gol a Lisbona sta cambiando anche la valutazione della sua stagione, soprattutto se adesso l'abbiamo visto carichissimo in allenamento e adesso vi faccio vedere un'altra creazione del nostro Mario che tra poco sarà disponibile la maglia è quella dello Scudetto, guardate che spettacolo, dipinto a mano e c'è proprio Big Rom coi colori del Belgio che si intrecciano con quelli dell'Inter, la maglia dello Scudetto che lui ha conquistato ma purtroppo non ha mai giocato e presto sarà possibile anche ordinarle e acquistarle poi vi faremo sapere non solo Megascoop quindi Perisic confermato ieri sera vi abbiamo fatto vedere come gli autori dell'articolo di Bloomberg siano il managing editor quindi come se fosse un direttore responsabile delle pagine sportive e altri due dipendenti a full time non quindi freelance come cercava di farvi passare qualcuno a confermare a confermare anche dopo Bloomberg l'interesse l'intenzione di Radrizzani e anche di Invescor perché anche su quella ha parlato e ha avuto conferme Bloomberg nel suo articolo anche dopo Bloomberg anche Forbes quindi un'altra autorità in campo finanziario conferma conferma quanto detto da Bloomberg e questo interesse di Radrizzani per l'inter confermata anche la valutazione che viene fatta di un billion per l'inter comprensiva di debiti quindi quindi parliamo di 600 più 400 o qualcosina in più a confermare anche tutto quello che vi abbiamo sempre detto come ha chiarito ancora una volta a Tele Lombardia ieri sera il nostro amico Carlo Festa che presto sarà anche qui sul canale e mi fa ridere che adesso vengano prese le sue dichiarazioni che sono sempre le stesse e sfruttate dai soliti noti di cui non parliamo però più assolutamente in nessun modo e tra l'altro Festa ha addirittura aggiunto che i tempi potrebbero anche dilatarsi non anche ai prossimi sei mesi quindi ha conferma che comunque è tutto ancora in evoluzione oltre a questo dobbiamo anche aggiungere che per la prima volta Sky Sport è intervenuta sull'argomento e ha invece sottolineato come sia secondo loro possibile bisogna fare attenzione no mi correggo alla possibilità che anche OCTRI possa fare un'offerta prima della scadenza del prestito per comprare l'Inter quindi ha ancora una una voce differente in questo momento che è caldissimo e che vi fa vedere come aumentano i players in campo aumentano i possibili interessati e le voci ma tra queste manca sempre quella dei peninsulari e questo fa ancora più ridere da brindare vi ringrazio per il sostegno che continuate a dare al canale mi raccomando siamo sempre più vicini ai 40k adesso vi faccio il check quanto ci manca 590 589 andiamo veramente a una velocità incredibile continuiamo così forza che presto festeggiamo questo traguardo prestigioso e storico e poi finalmente potremmo dire che sono già dentro come come potete vedere da da tutto quello che sta accadendo in questi in questi giorni in queste settimane tutto poi da vedere sulla situazione di questa causa fuffa che ci sarà l'udienza il 19 di aprile qui a Milano ne abbiamo sempre già detto dopo aver sentito l'avvocato Coste e tanti altri veri professionisti non figurine che China Construction Bank vorrebbe addirittura rivalersi cambiare lo statuto dell'Inter chiedere che venga corrisposto uno stipendio che non è mai stato dato nella storia nerazzura al presidente per recuperare dei soldi e non si capisce perché non lo faccia in Cina dove comunque ha Steven Zhang delle cariche nel consiglio di amministrazione di sunning.com ma non solo e quindi è tutto un qualcosa finalizzato a far anche qui arrivare un clamore mediatico ci stiamo dimenticando però di un'altra cosa fondamentale dell'incontro di Barcellona su cui abbiamo fatto la nostra edizione straordinaria tra l'altro siamo riusciti anche a parlare con tutte le nostre fonti anche dirette dei protagonisti come vi abbiamo detto ieri si è cercato di fare un dei titoli che non centravano assolutamente niente con l'obiettivo della visita di cortesia magari qualche discussione su qualche possibile affare che è stato fatto tra ausilio l'intermediario Edoardo Serniar che si occupa sempre delle operazioni con la Spagna e anche la gente di De Zerbi ma chi ci ha calcato la mano proprio ha preso un palo clamoroso perché i due abitano nella stessa abitazione e non vanno certo a Barcellona o si fanno vedere a Barcellona per parlare di un eventuale arrivo di De Zerbi che lo stesso allenatore ieri ha ribadito di non avere nessuna intenzione di lasciare la Premier League e il Brighton con cui sta facendo miracoli e aggiungiamo c'è anche una clausola rescissoria da 13 milioni e il Brighton con Potter con il Chelsea li vuole tutti e non fa sconti a nessuno quindi è un qualcosa quasi impossibile o che comunque ti comporterebbe dei sacrifici pazzeschi perché vi abbiamo detto se vai poi a spendere per l'allenatore intanto devi dare 10 milioni lordi di ingaggio eventualmente se decidi il cambio come sembra a Enzaghi sono già 10 13 di clausola 23 gli vuoi dare almeno 5-6 milioni a De Zerbi e moltiplichi per 2 poi bisogna vedere se come viene diciamo interpretato l'anno quello con la guerra e che la stagione con lo Shakhtar si è stoppata quasi subito ai fini di un possibile decreto crescita però comunque vai quasi a toccare 25 milioni di spesa per l'allenatore e ti stoppa qualsiasi altra operazione col fair play finanziario perché anche quelli vanno considerati qualsiasi tipo di operazione sul mercato i costi per lo staff e l'allenatore di tutto il montengaggi complessivo non solo quello dei giocatori quindi capite le difficoltà cioè ti costerebbe meno Klopp per dire o un Simeone poi quindi cialtronata titoli destabilizzanti su De Zerbi che non c'entra niente che vuole rimanere in Premier League poi si sono fatti dei nomi chiaramente ce ne sono su tutti i giornali addirittura in copertina anche qui Brozovic che ancora viene messo al centro di una possibile trattativa con il Barcellona perché sì che potrebbe andare via perché il Barcellona è un passo da Gundogan quindi il suo posto verrebbe preso da Gundogan in scadenza di contratto con il City e poi c'è l'esigenza di liberare Montengaggi per il sogno Messi del Barcellona di farlo ritornare a casa quindi ci sta un possibile scambio valutazioni molto simili ingaggio anche quello uguale non sarebbe nessun tipo di guadagno per l'Inter sarebbe uno scambio praticamente quasi alla pari leggermente superiore la valutazione di Brozovic che però è più anziano gli stipendi sono uguali e quindi però potrebbe essere un'operazione fattibile da vedere nei prossimi prossime settimane però che c'è qualcosa in vallo sul fronte Milano Barcellona è chiaro è il terzo incontro dopo quello di Riad dopo quelli di Porto che abbiamo detto che avevamo intercettato proprio il presidente della Porta e il direttore sportivo alemani si sta cercando di vedere e di fare degli affari insieme di cui si sta occupando l'intermediario Sernia non solo Brozovic che sì c'è un interesse datato anche qui ve l'abbiamo detto per primi su Onana per farlo tornare dove è cresciuto nel caso in cui Tarstegen dovesse andare al Bayern Monaco e poi si fanno anche i nomi di un TT dei giovani che hanno poco spazio come Ansu Fati e Ferran Torres che potrebbero essere delle soluzioni in prestito si parla anche di Jordi Alba di Marco Salonso tutti i nomi possibili ah poi mi dimenticavo avevamo detto anche Conte voleva tornare aveva questo avrebbe voluto tornare però non mi sembra che in questo momento ci siano le condizioni se poi dovesse cambiare la proprietà dovesse cambiare anche qualcosa in dirigenza questo si vedrà ma al momento possiamo solo dire che le nostre voci che vi abbiamo detto mesi e mesi fa sono tutte confermate e questo vi dà solo soddisfazione a voi che continuate a seguire a sostenere il canale a questo proposito iscrivetevi e iscrivetevi anche al gruppo Telegram scaricate la app e cercate Marco Barzaghi Inter il gruppo cliccate unisciti e avrete notizie in anteprima anticipazioni notifiche di quando siamo in live di quando escono i nuovi video degli articoli di Barza.com che ha scritto in settimana del ritorno possibile di Perisic della sua voglia di tornare e oggi escono i giornali guarda un po' andiamo a leggere adesso i vostri messaggi senza dimenticare la partita di questa sera che per qualcuno non esiste neanche meglio Invescorp che Radrizzani a tutti quelli che comunque hanno questa idea che Radrizzani non abbia la forza economica che è comunque vera per prendere da solo l'Inter però se ci sono queste voci confermate anche da Forbes è la dimostrazione che comunque lui ha già un partner importante se no non potrebbe neanche pensarci a un'operazione come quella dell'Inter Maurizio credo che il destino di questo finale di stagione dipenderà molto da quello che farà Lukaku e misura minore anche Correa sperando che entrambi riescano a svoltare Francesco Zappalà qualsiasi proprietà arriva l'importante che si faccia il bene il bene dell'Inter Paolone come ho sempre detto ripeto i conti al ristorante si fanno alla fine quindi come hai ben detto non dire sacco non dire gatto se non ce l'hai nel sacco magari nel sacco ci finisce il Monza speriamo e poi grazie per i ringraziamenti per le nostre live e per le nostre smascherate di cialtroni cammellati che si sono smascherati da soli questa volta per la fine di qualsiasi tipo di discorso Anthony dice sarebbe meglio la Lula invece che Correa però è anche vero che Lautaro è in grossa difficoltà At 1992 Taranto prima seguivo tutti i canali nero azzurri adesso siete davvero in pochi seguo soltanto professionisti seri come te saluti da Taranto grazie e ricambiamo Cosimo Chirico passano le proprietà ai giocatori di allenatori siamo a solo i colori bravo Marco forza Puff Martina vedo che sei in forma smagliante neanche festeggiare ti fa rinunciare al tuo immancabile appuntamento con tutti noi sei monumentale esagerata grazie Enzo grazie per le dirette per tutte le informazioni che ci porti se il canale sta crescendo il merito è tuo e dei tuoi collaboratori grazie per quanto fate per noi per il Monza bisogna vincere a tutti i costi all'andata sappiamo tutti cosa è successo di solito quando l'Inter subisce torti poi sfodera la prestazione sono sicuro che faremo una gran gara col Monza dal titolo la bastonata Ale e la ricerca del suo primo gol stagionale chissà magari Barellino può restituirgli il favore a bastoni Ale come già scritto non vorrei essere nei panni di qualcuno la spinta di San Siro sarà determinante pensiamo al finale di stagione mister sette nanetti poi Robert Persi le voci di nuovi probabili acquirenti dell'Inter la semifinale Champions portata di mano il quarto posto da conquistare possono essere benzina per tutti e speriamo che sia così coppia Lukaku Correa la scelta migliore Monitor fermo restando che Radrizani non è il mio preferito tra i possibili acquirenti vorrei sottolineare che il patrimonio personale nulla o poco c'entra con l'acquisto dell'Inter e ribadiamolo Stefano invece dice ma non è che la fascia da capitano sta pesando molto su Lautaro potrebbe anche essere così ringrazio tutti Anthony i nostri abbonati che sostengono sempre più numerosi il canale il nostro progetto di comunicazione grazie Gianmarco Milanato Larita e a tutti voi che siete sempre al nostro fianco grazie finiamo con un po' di rassegna stampa come al solito Gazzetta dello Sport che mette Brozovic in copertina e questi movimenti sull'asse Milano-Barcellona con la visita di ausilio di cortesia al Camp Nou accompagnato dal intermediario Serniar vediamo come ne parla la Gazzetta che ha fatto retromarcia rispetto a quanto aveva messo sul suo sito ieri incontro col Barcellona la chiave Brozovic a fare in Barça e si parla di uno scambio con Chessy per la difesa un TT e Marcos Alonso Brozo che si scambio scambio riaperto un TT Alonso che idee dietro missione in Catalonia il croato piace a Xavi e se ancora chiuso Frank può dire addio i due mancini a occasione a prezzi contenuti stavolta insieme ad Alemani c'era Jordi Cruyff il direttore sportivo accompagnato da ausilio c'era Edoardo Sernia agente attivissimo in casa Inter con buon ufficio al Barcellona bizzaria del destino eppure rappresentante di Roberto De Zerbi che sarebbe un candidato forte alla panchina in caso di separazione da Inzaghi ma il tecnico del Brighton non ha particolare voglia di lasciare la Premier in ogni caso questa casualità conferma quanto complesso sia il quadro l'Inter non può programmare con certezza il futuro prossimo ogni scelta dipenderà da chi sarà la guida da quale competizione si giocherà si cambia pure in attacco la Gazzetta fa ancora il nome di Turam e di Firmino che è vicino a Real Madrid Turam vi abbiamo già detto invece cosa succederà Inter la Champions è qui Passione Monza la formazione della Gazzetta è quella che vi abbiamo detto mette un'ana in partì in in sì tipo che vi abbiamo detto